Buongiorno, posso aiutarla? Volentieri, vorrei realizzare questo progetto. Mi consiglia questo set? Quanti accessori contiene il set? Oltre al trapano avvitatore e alla smerigliatrice, ci sono ben otto punte, otto bit, tre dischi abrasivi e un porta inserto. Ma la batteria è inclusa? Le batterie sono ben due, entrambe da 20 volt, una da 2 ampere e una da 4 ampere. Ottimo, spero che sia anche conveniente. Ma quanto costa? Potrà realizzare il suo progetto a 149 euro e 95 centesimi. L'offerta è valida da 9 al 26 febbraio. Bene, allora non me lo faccio ripetere due volte. Grazie per il suggerimento, è stato molto utile. Se volete saperne di più, venite a trovarci in negozio o andate sul nostro sito hobby-italia.it Scusi, posso chiedere un'ultima informazione? Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.